Il mio obiettivo è quello di montare nell'esercito a cavallo. È un grosso obiettivo fin da piccolo, mi è sempre appassionata la divisa. Cosa sono per te i cavalli? Sono, possiamo dire, compagni di vita, perché soprattutto in una mia situazione personale mi sono stati molto, diciamo, di aiuto, ma soprattutto psicologicamente. Cosa significa lavorare in squadra? Allora, se parliamo in una gara, significa, in una gara a squadra, significa collaborare per arrivare a un risultato unico. Quindi, ognuno, se abbiamo una squadra di quattro persone, ognuno deve dare il suo per arrivare al massimo risultato possibile. E in generale nella vita di tutti i giorni? Anche, soprattutto nel mondo, ad esempio, del lavoro. Io lavoro in un'azienda, quindi anche nell'azienda non si può essere individuali. Più si collabora, meglio è. Per la motivazione. So che molti ragazzi, cioè quasi tutti i ragazzi che vengono qui sono motivati. Però c'è chi ha una marcia in più. E quindi, cioè, ci sono degli eventi nella vita che ti fanno fare più sacrifici a delle persone rispetto ad altre. Io ho... Da me il trascorso. È fantastico montare e comunque avere delle sponsorizzazioni. Cioè, è perfetto, soprattutto, cioè, in questo... nell'equitazione, che ci sono molti costi. Allora, se non hai molte possibilità economiche, la sponsorizzazione, cioè, anche per un ambito lavorativo, è perfetto. 30 secondi, nei quali, guardando in camera, ti troverai a descrivere. Cerca di parlare finché non ti dirà che sono finiti 30 secondi. Perfetto. Pronto? Sì. Allora, via. Ciao, sono Marco, monto al Lobby Club, il mio struttore è Antonio Landrisano. Vorrei far parte del campus perché sono molto motivato. Vorrei fare di questo anche una carriera, un ambito lavorativo. Ho notato che ci sono molti sbocchi, sia per quanto riguarda gli sponsor, e sia anche per quanto riguarda, diciamo, l'ambito appunto lavorativo. E... Grazie. Grazie.